musica 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 ma musica musica Per avere riporto un Pink'n'Pop e Tommy però va fino al capolinea con decisione. Il Pink'n'Pop non si pensa su due volte, l'Eletroshock! Mauro, beat the fire! C'è la palla recuperata da parte di Bademan che lancia Dykes e tiene il controllo del corpo. Le medias, le due, sono un po' attorno. Il tira spino lancia Bademan fino al capolinea a terra da Showtime, il Pink'n'Pop. Giojo, watch the world go up in slowly. Si rigioca con il Giojovic per Bademan. C'è il canestro, c'è il fallo. Il gioco potenziale da quattro pezzi per Bademan. Importante da tre punti va... Kittel! Da Dykes! Guzman Gritti tira da tre punti fino in volo. L'ha schiacciato in una mano per Ousmane Piopper. Persino è stata un'altra partita. Le due volte si fa anche i due per i due per il tempo. A chi va? Sì, ma il nono per il tempo. La fastidio la alta partita è la scelta. È stata un'altra partita per Giojovic. E' quella che è stata un'altra partita. Ho scelta di quattro pezzi per la forte partita. La partita finisce qui, Abiusi e Saúde ne batte per 89 a 64, la donna di Ferrara.